Oltre a 500 kg di alimenti, tra cui formaggi in sacchetti e pane, in vendita tra gli stand di una sagra paesana, sono stati ritirati dal commercio nello scorso fine settimana a Pieve Santo Stefano. L'operazione dei carabinieri forestali della provincia di Arezzo assieme ai tecnici del Dipartimento di Prevenzione ed Ufficio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell'Asla Toscana Sud-Est. I controlli sul rispetto delle norme hanno portato i militari ad errorare tre sanzioni amministrative per un totale di 5.500 euro e a ritirare ai fini della distribuzione 221 kg di alimenti da forno, caseari ed insaccati, mentre 346 kg di formaggi ed insaccati sono stati sottoposti a blocco sanitario per verificarne l'origine. In particolare ad un espositore arrivato da fuori Toscana sono state elevate due sanzioni per un totale di 3.500 euro per aver messo in vendita prodotti alimentari senza etichettature e tracciabilità, quindi senza una dichiarata provenienza e per non aver effettuato le procedure di autocontrollo HCCP come la conservazione in frigo. Ad un altro espositore invece è stata elevata una sanzione da 2.000 euro per non aver effettuato le procedure previste nel manuale di autocontrollo HCCP.